No, parla di Tachipirina 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 Grazie per la tua La sapevamo, però va bene Però Tachipirina c'è in compressia, anche non solo in supposte Quindi non parla di supposte Questo lo supponi tu Comunque sono le 19.45 su Radio Roma Futura .it Siamo sempre in diretta su Febbra 90 Gli immancabile Marco Fabio Cic-Telly Chi è? Zazzaroni? Mi sembra Zazzaroni Io direi 10 10 Poi ci sta il grande Renato De Filippi Grande, grandissimo E poi la mia dolce metà Erika Streppa Ciao Erika, benvenuta Ciao Marco Fabio, grazie Che sarà felicissima di avere in collegamento telefonico Il nostro collega Amico Enrico E no, niente Alex Cicchetti Grande Alex, come stai? Buonasera a tutti ragazzi Buonasera Marco Fabio Tutto alla grandissima Non è Febbra 90 senza Alex Cicchetti Benissimo, benissimo Adesso sono anche usciti i calendari Quindi Per un attimo credevo di stare abballando con le stelle Quando ti ho sentito Mi sbeffeggi Allora Alex, che ci racconti? Siccome hai preso questo calendario Che diciamo era un po' nell'area che potesse uscire No? Le prime partite Si Ma si sapeva subito con l'Atalanta Si racconta Si racconta Sarà sicuramente un clima surreale Alle 21.45 A porte chiuse A fine giugno ragazzi Cioè È come un mondiale È un mondiale senza di tutti Alex, a proposito di Atalanta Ma l'hai sentito te Gasperini E le sue dichiarazioni Sulla partita col Valencia Guarda Intanto buonasera Buonasera a te No, guarda Per quanto riguarda Gasperini Io da quando Ha fatto più di qualche volta Che è venuto a giocare a Roma contro la Lazio Ha fatto parecchie esternazioni E parecchie volte è andato contro la Lazio E addirittura Se non ricordo male Una volta disse Che se la pandemia Se Bravo Se l'edicentro del virus Sarebbe esplosa A Roma O a Napoli Molto probabilmente Noi non sapevamo gestirla Bravo Bravissimo Adesso non siamo qui A puntare il dito In un momento così ragazzi Però mi sembra che anche a Bergamo La cosa non è andata per niente bene Questa cosa Se non l'avessi detta tu L'avrei detta io Questa cosa che hai detto tu Alex Se non l'avessi detta tu L'avrei detta io Perché Non so Se la vuoi riassupere te Tu sai anche della replica C'è stato Del Valencia Esatto Certo Gasperini ha rivelato che Nella partita in trasferta Contro il Valencia Senti eh Alex Senti Ma sicuramente L'avrà sentito Sicuramente l'avrà sentito Nella partita contro il Valencia Lui nei giorni precedenti Si sentiva veramente poco bene E poi ha scoperto comunque che Era positivo al coronavirus E quindi E quindi diciamo Il Valencia poi ha replicato Dicendo che è stato Un irresponsabile A venire Al Mestaia Al Mestaia Con il rischio Di contagiare tutti Quindi è stata Certo È stata una dichiarazione Infelice Tu cosa ne pensi Hai capito E poi faceva la morale Si sono d'accordo Sono d'accordo Con la replica del Valencia Ma sinceramente Ragazzi Gasperini e Carbonaro Si sta dimostrando Veramente Una persona Poco corretta Anche Ma già l'avevo intuito Ragazzi Personalmente Dopo Dopo le dichiarazioni Della finale di Coppa Italia Dopo Diverse volte Certo È chiaro che Questo problema È tutt'altro che calcio E si sta dimostrando Secondo me Una persona non adatta A certi scenari Tutto qui Perché è da folli Ragazzi Sentirsi male In quel momento Stare poco bene Partire per Valencia Sapendo poi Di risultare positivo Secondo me Ragazzi Non va bene Io Scusate se mi infervoro Su Gasperini E secondo me Renato lo ha fatto apposta Perché lo sa che mi ci infervoro Un pochino Però Cioè Come vi spiegate Che sui giornali Gasperini viene portato Sempre come Come esempio No Su tutto sport Sulla cazzetta Le immagini di Gasperini Gasperini come L'uomo nuovo del calcio Cioè come esempio positivo Beh perché comunque A prescindere da quanto Vi possa stare antipatico Non si può dire Che non sia un maestro di calcio A livello sportivo L'ha dimostrato ampiamente No? Sì per carità Però bisogna dire Scusate se intervengo Bisogna dire Inter non è andato benissimo certo sicuramente Alex però se ti ricordi in quel lontano 2012 l'Atalanta arzo le mani ragazzi l'Atalanta come la fa giocare arzo le mani arzo le mani complimenti per carità assolutamente volevo solo dire quello dai perché comunque si può e si certe volte si è anche antipatici in alcune esternazioni come queste che sicuramente non sono da prenderne esempio però a livello sportivo ampiamente dimostrato di sapere il fatto questo è legittimo sicuramente sono d'accordo con te comunque Alex parliamo di Lazio questa domanda te la devo fare perché a tutti i laziali l'ho fatta non ti dico cosa mi provoca perché sennò ti condiziono però non so se hai visto sui social e che sarà successo non so se hai visto sui social il siparietto fra Milinkovic è un tifoso della Juventus se non l'ha visto neanche lui per noi è fake news te lo dico no ragazzi sinceramente oggi sono stato praticamente sono stato molto impegnato sì sì riassumi Marco Fabio non so se è di oggi oppure comunque è recente allora un tifoso della Juventus ha scritto a Sergei Sergei vieni a giocare alla Juventus a sua memoria e lui ha risposto no no diventa tu della Lazio è come vincere la Champions ogni settimana cioè brilidi l'hai sentita da qualche parte commovente commovente va bene noi comunque la archiviamo come fake news assolutamente sì ci dissociamo sicuramente ci dissociamo tutti dai ci scrivono ci scrivono su su Whatsapp qualcuno verifichi questa notizia adesso andiamo tutti a seguire Milinkovic andate a seguirlo cioè non è che è sergente non fa un soldo di là grande sergione non ti credo neanche da casa no vabbè perché dai è così allora ma Marco Fabio dimmi posso interromperti un minuto visto che c'è Erika in studio ed è appena tornata Sara che ne diresti di fare un saluto live in diretta a tutte e due va bene se lei neanche lo sa neanche se lo immagina però diciamone che è il radio tieni amore in collegamento radiopolico ditele ditele che c'è il radio è in diretta eh povera Sara sono Erika sono Erika Erika ciao voce amica oddio che bello caramba come stai bene grazie oggi mi hanno portato il radio e quindi abbiamo aspettato che tornassi dal Mac immagino ah ok bene bene un saluto beh ci vediamo presto assolutamente sì a casa nuova con le mascherine ah Sara tra l'altro Erika tu non so se sai ma Sara è una veterana perché è già intervenuta in radio eh non è la prima volta che interviene questa è mezzo più volte mi ricordo benissimo tra l'altro stavano andando a vedere la chiesa mi sa in quel collegamento bravo sì è vero è vero va bene Sara grazie mille un abbraccione noi ci vediamo prestissimo spero grazie grazie a voi un bacio un abbraccio a tutti ciao 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 rieccomi in diretta Marco Fabio aspetta che ti devo far fare una domanda da Marco Fabio perché Marco Fabio ti voleva chiedere che ti volevo chiedere dimmi no aspetta che mia moglie ride così inserite il parental control da casa oh addirittura la bambina ah no allora Erika cioè ci chiedevamo in studio questa cosa dato che tu hai tre bambini tre ragazzi poi adesso alcuni sono cresciuti Giulia è la più piccina ma sì ti è mai successa questa cosa la bambina ha vomitato si è mangiato il panettone con i calamari ti è mai successa sta cosa è successo è successo Marco Fabio si è mangiato il panettone con i calamari quindi dalle parti vostre si mangia spesso si fa spesso purtroppo giusto giusto dalle parti sue si poteva mangiare una roba una roba del genere ma che che è che faccio no cioè arrivano messaggi illegibili quindi direi ma per il panettone con i calamari no non lo so sono troppi non scusate io non me la sento di leggerli tutti alcuni sono offese ma neanche uno scusa eh vabbè intanto dai cerco di recuperare quelli quelli fattibili poi intanto parlate con il buon con il buon ragazzi dici posso farvi una domanda riguardante il campionato devi questo è facile chi vince lo scudetto Lazio Inter si vabbè oh ma sta a meno 6 dalla cima ma che ne vuoi sapere sta a meno 7 è una partita meno c'ha tipo meno 9 con una partita in meno potenzialmente meno 8 meno 8 potenziale meno 5 addirittura eh quindi non penso che sia così poco scontato beh sicuramente non è tirata fuori l'Inter secondo me sta dentro ancora anche perché Alex converrai con me che con Conte le partenze sono sempre sprint sono sprintose ricordiamo ricordiamo l'inizio dell'Inter ragazzi punteggio pieno dopo quante giornate vabbè però l'Inter è un po' la sfortunata del gruppo quindi che intendi amore approfondisci in che senso è la sfortunata del gruppo è un po' sfortunata nella sua vita calcistica quindi sì magari può vincere però è un po' sfortunata più facile che vinca la Juve magari ma tutto sommato tutte le squadre di pallone hanno i loro momenti di fortuna e sfortuna così come nella vita quindi non penso sia così rilevante questa osservazione non so tuo amore non so se sai del del voto che abbiamo fatto con Alex in caso di Scudetto della Lazio sei al corrente devi unirti a noi perché Sara ha già dato la sua adesione sì ovviamente Francesco Verduchi Federico Di Placido Valerio Barberi tutti i laziali è Renato è Juventino non credo si vuole venire anche lui in caso di Scudetto della Lazio noi partiremo da casa di Alex ok vestiti in una determinata maniera adesso vedremo bene sì le Christian De Sica in tifosi ok la faremo tutta a piedi fino al divino amore a piedi e faremo ovviamente le riprese della via crucis tipo cammino di Santiago magari Marco Fabio magari io farei subito ma il livello di sobrietà quale sarà ce lo potete anticipare ovviamente serviranno zainetti con un po' di alcol un po' di bevande perché sennò chi sopravvive sotto il sole ci organizzeremo costrisse campari prosecchi non ci saranno problemi anche perché Alex quando abbiamo fatto questo voto non avevamo previsto che il campionato finisse all'agosto all'agosto è dura è tosta mannaggia vabbè però ogni promessa è debito porteremo la bomboletta d'ossigeno dai guarda facciamo così io se fosse non aderisco vi seguo in macchina e prendo però non abbiamo detto l'ora ah ok no potremmo farlo anche di notte però dobbiamo fare le riprese perché non è che e poi mettiamo lo potremmo fare al tramonto bello romantico il tramonto invece di farlo magari alle due del pomeriggio ah vabbè quello sarebbe sarebbe intelligente secondo voi quante ore ci potremmo mettere non lo so ma secondo me Marco Fabio con tre ore arriviamo così vabbè col passo lungo chissà se quel giorno il tramonto assumerà i colori giallo-rossi o bianco-celesti voi cosa ne pensate bella bella frase questa questa è una bellissima frase io sono circondato da poeti e poetesse Alex bella un circolo un circolo proprio veramente vizioso vizioso un circolo viziato degli artisti intellettuali un circolo de bocce c'è sta no amore nessun riferimento Erika lo stava guardando ma che vuole no vabbè no perché lui questa cosa delle bocce la usa pure a casa quando tira le cose per terra poi fa è caduto più vicino a te come il boccino tocca a te raccoglierlo io sono equo c'è solo bocce lui è anziano dentro ragazzi ma si perché c'è il bocciofilo capito c'è questa cosa delle bocce sempre vabbè soltanto pura logica pura logica Alex allora quindi la tua serata ideale mercoledì beh però Alex non ha risposto sullo scudetto no o me lo so perso Alex chi lo vince sto scudetto la Juve ecco ti pareva continua continua secondo me la Juve ragazzi secondo me senza Juve prima interseconda Lazio terza si nona ponte secondo me senza lo stop perché io mi ricordo l'ultima trasmissione prima dello stop Alex era diventato spavaldo e parlava di Lazio si ragazzi ci credevo ci credevo ragazzi ci credevo adesso ho paura che potrebbe essere tutto un altro campionato tant'è è come dire un terno all'otto non si sa capito anche per il fatto delle partite l'avvicinata le cinque